Benvenuti a tutti da Punto Stim Punto a questo nuovo video. Oggi vi spiegherò come sbloccare gli scambi su un nuovo account o su un profilo vecchio che, però, dopo l'aggiornamento, si è ritrovato senza questa possibilità. Non preoccupatevi, è una cosa davvero semplice, ma al contempo fondamentale per poter godere dell'esperienza di Abbo. Ehi, a fine video vi farò una domanda, quindi mi raccomando fate attenzione. Anche perché, insomma, estrarò ben 5 vincitori tra i commenti, quindi assicurati di essere iscritto al canale per poter partecipare. Se siete finiti qua è perché potreste essere dei nuovi giocatori. In questo caso vi consiglio un paio di cose. 1. Abbo è ottimizzato da computer, essendo nato come gioco sul web. Giocare ad applicazione è senza dubbio una limitazione. Se voleste goderne appieno, vi consiglio di provare da PC. 2. Non ritirare i crediti dalla cassaforte senza prima averla sbloccata. E 3. Invece qui sbloccate il mercatino per risparmiare sulle tasse. Per il punto 2 e 3 ne parleremo in prossimi video, che troverete in descrizione e sovraimpressione. Comunque Abbo inoltre è un mondo davvero particolare e oltre al semplice gioco esistono davvero tante community, fan site, siti che ti aiutano a scoprirne i dettagli. Quindi iscriviti al canale e ti consiglio vivamente di unirti al mio server Discord e al mio canale gruppo Telegram. Li trovate cercando Stinabbo ma vi lascio anche in sovraimpressione il mio Discord per raggiungermi e in descrizione i link per unirvi insomma ai gruppi Telegram. Torniamo però adesso a capofitto sul come sbloccare gli scambi. Per poterlo fare bisognerà completare la sezione di traguardi chiamata Pass del negoziatore. Sono 7 step. 1. Tutorial. Per completare questa parte bisogna infatti aver completato la sezione di traguardi tutorial. Andiamo quindi a vedere come si fa. Quando servirà vi mostrerò di ogni step come farlo insomma con le varie versioni di Abbo, versione classic flash scaricata, poi da app e smartphone e infine da versione beta slash model. Quindi, icona fashion 1. Dobbiamo solo cambiare look. Ci clicchiamo, look, modifichiamo qualcosa, salva. Fatto. Andiamo al successivo. Camminando, camminando. Dobbiamo solo camminare in una stanza. A volte fate un doppio clic per essere sicuri che insomma funzioni che lo prenda. Io medesimo. Dovete visitare il vostro profilo. Andate in una stanza, cliccate il vostro avatar, cliccate sul vostro nickname e vi si apre il profilo. Bene, fatto. Ciao stanza. Basta che scriviate e premiate invio. Funziona pure se siete stati mutati. Casa dolce casa. Andate in una vostra stanza. Se non sapete come fare, aprite il navigatore, stanze, il mio mondo. Se non avete una, la create. Una volta dentro, la stanza, andate su impostazioni, poi di nuovo su impostazioni e lo avete completato. Vi consiglio, mentre ci siete, di switchare velocemente le quattro opzioni, tac 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 tac, che vi appaiono sopra, che vi sblocca anche un distintivo extra, questo qui con l'icona del lucchetto. Muovi quel forni. Vai in una tua stanza, posizioni un oggetto qualsiasi, stanza, e poi lo sposti. Se non hai un forno, puoi aprire il negozio e comprarne uno qualsiasi tra quelli a ducats, che sono, diciamo, la valuta rosa, insomma, che ti dà gratis abbo. Se non hai ducats, clicca in alto a destra sulla sezione vault e poi premi su riscatta. Una volta posizionato in stanza, comunque l'oggetto che avrete acquistato, lo premete, lo selezionate, insomma, e fate sposta, muovendolo in un'altra casella e avrete completato questo distintivo. Se siete da computer, potete semplicemente tenere premuto il pulsante alt e trascinare l'oggetto. A proposito, se non lo sapeste, con lo shift ruotate il furno e con control lo prendete in mano. Ora che abbiamo completato la sezione tutorial, possiamo andare avanti e fare la sezione pass del negoziatore. Abbiamo completato, quindi, già il primo, che era appunto il tutorial, e andiamo a vedere il punto 2, la curiosità del nabbo. Si tratta semplicemente di stare 120 minuti online sul gioco. Sono due orette, niente di problematico. Andiamo avanti a fare il resto delle cose e questo sicuramente si completerà da solo nel frattempo. 3. Ospite fisso. Qui il tuo profilo deve essere stato creato da almeno tre giorni. Può sembrare una scocciatura, ma è stato fatto perché in questo frattempo riesci meglio a farti un'idea del gioco e incorri meno il rischio di truffe. Se questo ti disincentiva dal crearti tanti cloni, ti spiego io il trucchetto su come risolvere. Un giorno ti metti e crei tutti i profili, magari su mail diverse. Dopo tre giorni, inizi ad occuparti di sbloccare loro gli scambi, così ti eviti scocciature. 4. L'amicone. Dovete dare due gemme stellari. Purtroppo questa è una feature che da applicazione al momento non è disponibile, ma spero lo diventi presto. Comunque vi dirò come sbloccare la cellulare con un metodo differente. Partiamo però da come si fa per computer. Da versione classic basta premere un avatar di una persona in una stanza, cliccare su dai una gemma, lo fate anche un'altra volta e avete completato. Da versione invece beta modern bisognerà premere un altro utente, poi il suo nick e dal suo profilo cliccare due volte su dai una gemma. Da applicazione probabilmente il sistema sarà uno di questi due. Per adesso vi consiglierei comunque di trovare il modo di accedere da pc e dare le gemme in questo modo. In general d'app non esiste nemmeno la sezione traguardi, li sbloccate lo stesso ma non avete modo di seguirne l'avanzamento facilmente. Vediamo come si possono dare le gemme da telefono attualmente, perché insomma bisogna comunque risolvere. Scaricate l'applicazione Puffin, che è un browser. Andate su abbo.it, premete in alto a destra sui tre pallini, flaggate, ossia mettete la spunta sulla casella sito desktop. Vi si ricarica oppure ricaricate poi voi la pagina, fate il login su abbo e una volta loggati cliccate su hotel. Praticamente inizierà a caricare il client. Una volta dentro entrate in una stanza, cliccate una persona, il suo nick e dal profilo date le gemme. Lagga un po', vi serviranno magari un paio di tentativi e vi consiglio di premere su a tutto schermo questo pulsantino con le frecce, perché altrimenti potrebbe non funzionare. 5. Esploratore di stanze junior. Dovete visitare 20 stanze dell'hotel. Potete semplicemente cliccarle a mano, oppure se volete essere più pratici, venitele nella mia sala punti del mio avatar.stim.banned. Vi lascio pure il link diretto alla stanza in descrizione. Da qua, entrando nel teleguarda roba, finirete in un mini loop di 20 stanze. Potete anche lasciare l'autoclick ad andare avanti, settato su double click left a 0.5 secondi. Informazione extra, già che ci siamo! Se volete comunque visitare più stanze, ragazzi, per fare il traguardo esploratore di stanze, che insomma, sappiamo, ne servono tanti, della sezione appunto esplora l'hotel, basta che cerchiate nel navigatore visita room 001, tutto attaccato, e da qua troverete centinaia e centinaia di stanze collegate. Ci potete arrivare anche dalla sala punti rapidi di punto stimpunto, comunque, come, insomma, vi sto facendo vedere. 7. Piacere di conoscerla, ossia avere due amici in lista. Semplicemente mandate richieste di amicizia in giro. Volete velocizzare questo processo? Tendenzialmente un avatar femminile facilita. In alternativa, loggate più account in contemporanea, se dovete abilitare tanti scambi, e fate parlare, una stanza dove sono tutti, magari tipo la mia sala punti, uno di questi lo fate parlare. Cliccando sul fumetto di dialogo, tutti gli altri potranno mandargli la richiesta, perché specifico in questo modo, perché ovviamente se stanno facendo gli scherzi muovono. Quindi poi fate scrivere anche un altro vostro account e mandate la richiesta pure a questo. Una volta che questi due account avranno accettato tutte le richieste, tutti i vostri account avranno almeno due amici in lista. I più attenti, però, avranno notato che ho saltato il punto 6. Perché? Per il semplice motivo che la parte è un pochettino più complessa. 6, raggiungere il livello 6, non per niente. Vedete questa tabella? Mostra il numero del livello, sulla sinistra, il numero di punti necessari a raggiungerlo al centro, e infine nell'ultima colonna il beneficio che fare il salto di livello ti porterà. Glissiamo momentaneamente sul fatto che questi benefici dell'ultima colonna li riscattate nel vault e finiranno in cassaforte, con tassazione all'80% a meno del sblocco della stessa tramite Laboshop. Per quanto appunto riguarda il sistema a livelli, che è il funzionamento della cassaforte, trovate in descrizione, in sovraimpressione, un tutorial dedicato. Tornando a noi, in pratica, il punteggio che viene mostrato in tabella non ha assolutamente niente a che vedere con i vecchi punteggi. Esso è una sommatoria tra numero di traguardi, numero di distintivi e numero di furni diversi. Sì, sto saltando ospitalità perché qui non è rilevante. Calcolando che pure i distintivi su un account appena iscritto sono bene o male zero, rimaniamo alla somma fra numero di traguardi, un punto segnato per ciascun livello di ogni traguardo, e appunto il numero di furni diversi in nostro possesso. Abbiamo visto che per il livello 6 servono precisamente 75 punti. Allora, senza farci troppo intimorire, dobbiamo arrivare a 75 punti per sbloccare il livello 6. Partiamo con, come ipotesi, un avatar nato tre giorni fa e qui ci sono un pochino di calcoli. Il numero fra parentesi quadra in grassetto va ogni volta ad essere la sommatoria riga per riga. Allora, abbiamo completato il tutorial, quindi abbiamo già 6 distintivi più uno extra nell'impostazione accesso, quella con lucchetto. Pass del negoziatore, segniamo 6 distintivi perché il settimo si sbloccherà raggiungendo il livello 6. Quindi siamo già a 13. Nel mentre che abbiamo visitato le 20 stanze per l'esperto junior, abbiamo sbloccato anche visitatore di stanze livello 1, 5 stanze e livello 2, 20 stanze. Quindi sono 2 in più, 15. Essendo iscritti da 3 giorni abbiamo pure sbloccato vero hub, livello 1, 1 giorno e livello 3, 3 giorni. Già siamo a 17. Mentre fate piacere di conoscerlo, ossia avere 2 amici in lista, sbloccate anche socializzatore 1 e quindi siamo a 18. Mentre facciamo la curiosità del nabbo, sblocchiamo anche i primi 3 livelli di vita da hub. 30 minuti, 60 minuti e 120 minuti. Quindi da 18 passiamo a 21. Cliccando su vault e su riscatta, sul regalo giornaliero in alto a destra, se poi lo chiudete, premete la X e lo rifate, vi darà il traguardo dammi dammi di livello 1, aver sbloccato due regali giornalieri. E arriviamo a 22. Create una vostra stanza grande, tipo 416 caselle, ed aprite il magazzino Builders Club, quello giallo. Non è importante avere veramente l'abbonamento, assicuratevi che non ci sia nessuno con voi in stanza, altrimenti non funziona, e iniziate a posizionare furni diversi. Una volta apposati 50 furni diversi, avrete già sbloccato il livello 5 di Esperto Builders Club. Quindi sono 5 livelli e arriviamo a 27 di sommatoria. Ora voi posizionate un vostro furno, diamo per scontato che ce l'abbiate perché avete completato il tutorial, quindi necessariamente ne avete spostato uno. Sbloccherete il livello 8 sia di designer di interni che il livello 8 di collezionista di furni, quindi 8 più 8 fa 16 e 27 più 16 fa 43. Portate dunque il vostro avatar nella mia sala punti di punto simpunto banned. Qua il vostro avatar in automatico inizierà a svolgere un percorso che sbloccherà. Traguardi palestra, trampolino, bici ellittica e tapirulan. Livello 1 un minuto e livello 2, 11 minuti, insomma, di ciascuno di essi. Con questi 6 livelli arriviamo a 49. Nel mentre che fate gli attrezzi palestra, siete però anche sopra le piste pattinaggio su ghiaccio. Infatti lo notate dalla luce. Questo farà dunque sì che sbloccherete anche il traguardo ghiaccio di tutti. Fino al livello 4, 31 minuti, quindi più 4. E arriviamo quindi a 53. Appena finito il percorso palestra più pattinaggio ghiaccio, vi sposterà. Il tutto lo fa in automatico la stanza, cioè voi letteralmente dovete solamente entrarci sul percorso skate più pattinaggio a rotelle. Qua nel tempo restante, il tempo restante inteso quelle due ore non necessarie per sbloccare, insomma, la curiosità del nabbo, le due ore online, sbloccherete in questo frattempo il livello 12 di ambo i traguardi skate, ossia lolly e slide. Con questi 24 arriviamo a 77. E così quindi siamo arrivati a sbloccare il livello 6. Otteniamo il beige salta al livello 6. Nel frattempo però abbiamo pure sbloccato i traguardi, i minuti di pattinaggio a rotelle, essendoci stati circa 1 ora e 20. Si passa quindi 83. Foste interessati. Qui avete già sbloccato gli scambi, quindi siete a posto, siete proprio a posto, sbloccati. Se volete fare una cosetta in più, soprattutto se lo utilizzate anche per dei cloni, ecco, e quindi ci volete guadagnare qualcosa in più, già che gli avete fatto fare tutta questa cosa, per arrivare al livello 7, che è una cosa molto utile, perché in questo modo riuscite ad avere 6 crediti nella cassaforte, quindi dalla quale poi potreste prenevarne uno, perché per le tasse, insomma, questo è l'unico sistema, a meno di sbloccarla. Tornate nella vostra stanza, fate piccolbicino, togliete i furni di prima, e posizionate dal Builders Club. Sezione per ambiente, e ballando sulla rotelle, 45 pezzi, sbloccate il livello 4. Per ambiente, ghiacciolo, 45 pezzi, anche qua a livello 4. Per ambiente, snowboard, ne mettete 36 pezzi, arrivate al livello 2. Quindi, ora il Builders Club è arrivato al livello 7. Facendo quest'ultima riga di traguardi, arriviamo a 96, sblocchiamo il livello 7, e quindi anche i 6 crediti in cassaforte, che ne possono sbloccare una. L'alternativa, piuttosto che fare questo lavoro, è comprarsi 13 furni diversi a ducats. Dal costo di, magari, 75 ducats l'uno, li trovate, le piattaforme, le sedie pura. Le uniche tre eccezioni, che veramente di ducats costano davvero molto poco, sono il tavolino da salotto mod a 25 ducats, la ciotola dal latte a 15 e lo sgabello di gruppo 1 a 15. Li trovate, questi tre furni, visibili nella mia sala punti, in alto a destra. Potete premerli e poi cliccare su Acquistane 1. Ovviamente, ragazzi, se c'è il calendario, potete sfruttarlo, apritelo, ci trovate dei furni. E ricordate che se loggate da app, vi regala un furno, un look berretto verde da Android, o una scrivania iPad da dispositivo Apple. Non ho inserito in questo conto dei traguardi il distintivo dell'email verificata, però seriamente, se avete creato l'account di una mail inventata, momentanea o poco sicura, modificatela prima possibile con una reale. Ho visto persone perdere davvero 50.000 euro di cose sul gioco per semplice disattenzione alla mail. Fate un'email reale, verificatela subito, anche perché è l'unico modo di poter creare più account sulla stessa email. Inoltre, mi raccomando, inserisci le domande di sicurezza sul tuo profilo. In caso di scam dei dati, le persone non potranno rubarvi niente e sarete al sicuro. Però, ovviamente, dovete fare molta attenzione a mettere delle password dello scambia che vi ricordate, perché altrimenti, poi, sennò, siete nel gatto. E nel suo hub potreste semplicemente chattare, non potete più scambiare e non fare nulla. Però, ecco, perché vi dico di metterle? Perché so di persone che hanno perso migliaia di euro solo perché non avevano inserite le password dello scambia, o semplicemente è perché, eh, ma poi mi scazza metterle. Eh! È come se dite, boh, allora non chiudo la porta di casa perché, beh, mi scoccia. No. Ragazzi, so che ho espresso tanti concetti in questo video e potrebbero essere non banali per tutti. Vi invito a commentare qua sotto in caso di dubbi. O di contattarmi su Telegram, Discord o WhatsApp, trovate tutto in descrizione. Non preoccupatevi, non siate timidi, mi fa davvero piacere aiutarvi. Ma prima di farlo, riguardatevi la parte poco chiara e ricordatevi che il testo del video lo trovate in un link in descrizione per vostra possibile praticità. Domanda del giorno. Estrarrò 5 vincitori che si aggiudicheranno un premio. Rispondete nei commenti con risposta giusta più vostro nickname, altrimenti non saprò chi pagare. Domanda. Che livello è necessario raggiungere per sbloccare gli scambi? Opzione A livello 4, opzione B livello 6, opzione C livello 7, opzione D livello 30, opzione E. Super Saiyan no, scherzavo. Non deludetevi e assicuratevi di essere iscritti per poter ricevere il premio. Altrimenti, anche se vi estraggo, ovviamente non riceverete niente. Quindi iscrivetevi, se volete lasciate anche un like. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e condividilo sui social. Qua a sinistra trovate il mio ultimo video, correte a vederlo se ve lo siete perso. In alto a destra trovate il pulsante di iscrizione a questo canale. Infine, ecco qua i social sui quali potete seguirmi. Trovate il loro link qua sotto in descrizione. Grazie della visione.